il 2024 si apre con una notizia bomba confermata dalla stessa protagonista belen conferma i tradimenti di stefano de martino con alessia marcuzzi mentre i tabloid svelano nuovi piccanti dettagli la storia tra belen rodriguez e stefano de martino è stata una delle più discusse per i presunti e continui tradimenti da parte di entrambi uno in particolare però è saltato al centro delle cronache rosa ovvero quello di stefano con alessia marcuzzi di questa storia se n'era parlato tanto ma nessuno aveva mai confermato se non che belen in una vecchia intervista alle iene aveva detto di non avere un buon rapporto con la collega adesso però arriva il commento bomba di belen che reduce dagli ultimi giorni di fuoco dove ha litigato apertamente sui social con il suo ex antonio spin albese adesso sfama ancora il gossip e lo fa confermando i tradimenti di de martino con alessia marcuzzi in un commento dove un utente le chiede appunto conferma e la stessa belen a rispondere confermando tutto ma non è finita alessandro rosica conosciuto come l'investigatore social per anni ha parlato delle scappatelle di de martino e della rodriguez suscitando non poco remore dall'asciogare l'argentina ieri rosica è tornato ancora sull'argomento le signorine non sono dodici ma di più guarda poi con chi ti ha tradita se vuoi ti mando tutto il materiale io avevo foto video e messaggi parole a cui l'argentina ha subito risposto volevo ringraziare pubblicamente alessandro rosica perché anni fa mi ha voluto avvertire e io non solo non gli ho creduto ma si è preso anche delle brutte parole adesso devo solo dire che aveva ragione insomma ci potremmo aspettare un documentario su netflix anche per belen